e di partecipazione su livelli inferiori a quelli prevalenti negli altri paesi europei. La questione della qualità del capitale umano, sulla quale siamo a lunghi soffermati, assume particolare rilevanza nella prospettiva di una crescente diffusione delle nuove tecnologie e della conseguente minore domanda di lavoro per attività standardizzate e ripetitive, senza adeguati investimenti in formazione pubblici e privati, gli effetti negativi sull'occupazione saranno forti, le esuguaglianze di reddito si accentueranno. Per contrastare questi rischi bisogna intervenire con decisione, comprendere tutti l'importanza di una formazione che abbracci, oltre agli anni dell'istruzione, l'intera vita lavorativa, costituisce una sfida cruciale per il nostro Paese. Il mercato del lavoro è stato oggetto di profonde innovazioni. Le riforme hanno avuto nel complesso effetti positivi sull'andamento dell'occupazione e aumentata la prevenzione delle imprese ad assumere lavoratori a tempo indeterminato, in particolare quelle più grandi. Resta però elevata la disoccupazione, soprattutto nel mezzogiorno e tra i giovani. I nuovi ammortizzatori sociali hanno cresciuto alla copertura per i disoccupati senza generare eccessivi disincentivi alla ricerca di lavoro. Stentano invece a emergere gli effetti del nuovo regime di politiche attive. La quota di persone che beneficiano del sussidio di disoccupazione senza cercare attivamente un lavoro non è scesa. La lunga crisi ha accentuato il disagio sociale. Secondo i dati dell'Istat, negli ultimi dieci anni, la quota delle famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta è quasi raddoppiata, giungendo a sfiorare il 7%. È più alta nel mezzogiorno e, soprattutto, tra le famiglie in cui sono presenti stranieri. È peggiorata la posizione dei giovani rispetto a quella degli anziani. Le risorse rese disponibili con l'avvio del reddito di inclusione, uno strumento di reddito minimo, consentono di coprire circa il 40% delle famiglie in povertà assoluta. Nel procedere a un suo rafforzamento o all'adozione di altri provvedimenti, oltre a evitare di scoraggiare la ricerca di un lavoro regolare, bisognerà prestare attenzione alle conseguenze sui conti pubblici. La divaricazione territoriale della nostra economia riassume e mette in risalto tutte le fragilità strutturali finora elencate, nella capacità di crescita economica, nella produttività delle imprese, nella disponibilità di lavoro, nella qualità dei servizi pubblici. È un problema antico. Dopo i progressi registrati negli anni Sessanta, il divario è tornato ad allergarsi. Si è ampliato ancora nel corso della doppia recessione. Rispetto al 2007, il PIL è più basso di quasi 10 punti percentuali nel mezzogiorno contro circa 4 nel centro-nord. Il differenziale tra i tassi di occupazione delle due aree, rispettivamente pari a 44 e 65%, è aumentato di quasi 3 punti percentuali, riflettendo il calo registrato nel mezzogiorno. Con la ripresa dell'economia, l'azione pubblica può più facilmente rimuovere i vincoli che frenano attività d'impresa e favorire il recupero dei ritardi in parti via via crescenti del territorio nazionale. L'intervento pubblico si svolge su due piani, tra loro complementari. Il primo riguarda gli aspetti normativi e regolamentari, l'organizzazione e la gestione delle amministrazioni. Il secondo, il reperimento e l'utilizzo delle risorse destinate alle infrastrutture, ai servizi pubblici e alle misure di natura redistributiva, affinché possa contribuire efficacemente allo sviluppo del Paese e non finisca col metterne a repentaglio la stabilità finanziaria, tale intervento deve essere svolto nella piena consapevolezza dei vincoli di bilancio. Alla fine dello scorso anno il debito pubblico italiano era pari a quasi il 132% del PIL. È un valore molto elevato rispetto al passato. Supera di oltre 50 punti percentuali quello medio del resto dell'area dell'euro. Costituisce un elemento di freno e la principale fonte di vulnerabilità per l'economia. Scoraggia gli investimenti aumentandone i costi di finanziamento e alimentando l'incertezza. Accresce ricorso a forme di tassazione distorsiva, con effetti negativi sulla capacità di generare reddito, risparmiare e investire. Comprime i margini disponibili per politiche sociali e di stabilizzazione macroeconomica. espone a crisi di fiducia, particolarmente pericolose, quando, oltre a coprire il fabbisogno dell'anno, si devono rifinanziare ingenti importi di titoli in scadenza. In Italia si tratta complessivamente di circa 400 miliardi all'anno. La dinamica del rapporto tra debito e prodotto dipende essenzialmente dal saldo di bilancio primario, ossia la differenza tra entrate e spese pubbliche al netto di quella per interessi, e dal divario tra l'onere medio del debito e il tasso di crescita nominale dell'economia. Queste variabili si influenzano reciprocamente. In particolare, un peggioramento del saldo primario, anche solo atteso, può generare timori sulla solidità dei conti pubblici e di innalzare i costi di finanziamento per lo Stato. Dopo essersi ampliato marcatamente durante la crisi dei debiti sovrani, il differenziale tra onero medio e tasso di crescita è sceso intorno all'1%. Può diminuire ulteriormente nei prossimi anni grazie a una congiuntura ancora positiva. Se le tensioni degli ultimi giorni si riassorbiranno, anche il costo del debito si ridurrà, seppur leggermente, con il venire a scadenza dei titoli collocati in passato a tassi più elevati di quelli di nuova emissione. Questo risultato sarebbe conseguito anche in presenza di una graduale normalizzazione della politica monetaria. Ma a questo fine la condizione essenziale è conservare la credibilità del processo di consolidamento dei conti pubblici. Il rapporto tra debito pubblico e PIL potrebbe tornare sotto il 100% nel giro dei 10 anni se venisse gradualmente conseguito un avanzo primario tra il 4% del prodotto, più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto a livello attuale e coerente con il sostanziale pareggio di bilancio al netto degli effetti ciclici. La discesa potrebbe essere più rapida se il miglioramento dell'avanzo primario, il consolidamento e la prosecuzione delle riforme strutturali sostenessero la crescita e abbattessero il premio per il rischio che grava sui rendimenti dei titoli pubblici italiani. Ridurre l'incidenza del debito è un obiettivo irrinunciabile. In una fase espansiva e con una politica monetaria ancora molto accomodante non è utile aumentare il disavanzo. A fronte di un temporaneo impatto positivo sulla domanda, reso peraltro incerto dal possibile materializzarsi di tensioni finanziarie, si avrebbero ripercussioni negative persistenti sul debito e sulla spesa per interessi. Gli effetti moderatamente restrittivi dell'aumento dell'avanzo primario possono essere compensati da una riforma fiscale indirizzata a rendere il prelievo meno distorsivo e da una ricomposizione della spesa pubblica volta a stimolare la capacità produttiva. Il calo degli investimenti pubblici dura quasi ininterrottamente dal 2010. Vi hanno influito, oltre alla limitata disponibilità di risorse finanziarie, anche l'inefficienza e la lentezza del processo di selezione e realizzazione delle opere. Più recentemente, gli investimenti possono aver risentito le difficoltà di adattamento al nuovo codice degli appalti, dei contratti pubblici. L'importo complessivo dei bandi per le opere pubbliche è tuttavia tornato a crescere lo scorso anno. Ma occorre ancora lavorare sui tempi e sulla complessità delle procedure. Nel lungo periodo, il contenimento delle disavanzi del debito poggia in larga misura sulla capacità della finanza pubblica di far fronte all'aumento della spesa sociale determinato dall'invecchiamento della popolazione, in particolare nella previdenza e nella sanità. Le riforme introdotte in passato rendono gestibile la dinamica della spesa pensionistica. Hanno risposto alla necessità di tenere conto dell'allungamento della vita media nel definire il rapporto tra contributi versati e l'entità e la durata della pensione. Hanno posto l'Italia in una posizione favorevole nel confronto internazionale. Sarebbe rischioso fare passi indietro. Interventi mirati, volti a ridurre specifiche rigidità, sono possibili. Alcuni sono già stati effettuati in passato, ma vanno sempre adeguatamente compensati in modo da assicurare l'equilibrio attuariale del sistema pensionistico. Nel modificare le regole di fondo, che determinano le tendenze di lungo periodo e la spesa pubblica, va esercitata estrema prudenza. Gli indicatori di sostenibilità calcolati in sede europea sono recentemente peggiorati per l'Italia, a causa della riduzione della crescita potenziale del prodotto prevista per i prossimi decenni, a sua volta dovuta anche al calo della popolazione attiva connesso con il ridimensionamento dei flussi migratori attesi. L'industria finanziaria internazionale è interessata da un vasto processo di trasformazione. Dalla fine dello scorso decennio il ruolo delle banche nel finanziamento dell'economia si è progressivamente ridotto. È aumentato il peso del mercato dei capitali e di operatori non bancari che svolgono alcune funzioni tipiche della tradizionale intermediazione creditizia. La consistenza delle obbligazioni collocate sui mercati internazionali dai gruppi non finanziari è più che raddoppiata negli ultimi dieci anni, raggiungendo nel 2017 i 6.500 miliardi di dollari. Alla fine del 2016 le attività degli intermediari non bancari erano pari a 160.000 miliardi di dollari, quasi la metà di quelle detenute dal complesso degli intermediari finanziari. Il rapido sviluppo della tecnologia sta aprendo i mercati del credito e dell'intermediazione alla concorrenza di nuovi operatori, sia nell'economia avanzata sia nei paesi emergenti. Già oggi numerose imprese cosiddette fintech offrono servizi innovativi e a basso costo nel comparto dei pagamenti elettronici, nella gestione del risparmio dell'intermediazione mobiliare. Le maggiori imprese tecnologiche internazionali stanno inoltre facendo ingresso nel mondo del credito e della finanza. L'esperienza mostra che un settore finanziario diversificato, caratterizzato dalla presenza di molteplici canali di finanziamento e di operatori di diversa natura, può favorire gli investimenti e la crescita, può aumentare la resistenza dell'economia a eventi avversi. Negli Stati Uniti le imprese hanno reagito alle restrizioni del credito bancario causate dalla crisi finanziaria, sostituendolo con emissioni obbligazionarie. Severità e durata della recessione ne sono risultate attenuate. Ma lo sviluppo dell'intermediazione non bancaria, se non adeguatamente controllato, può anche costituire una fonte di rischio. Le strategie dei gestori di fondi di grandi dimensioni possono avere impatti rilevanti sui prezzi e sulla liquidità degli strumenti oggetto di investimento. La diffusione dei transazioni automatizzati ad alta frequenza può dare luogo ad aumenti repentini della volatilità del corso di titoli, soprattutto qualora diversi intermediari reagiscono in maniera simile ai movimenti di mercato. Anche le interconnessioni indirette tra le banche e gli altri intermediari costituiscono potenziali fattori di rischio. Analisi per la definizione di interventi regolamentari sull'intermediazione non bancaria sono in corso presso il Financial Stability Board con l'obiettivo di limitare i rischi associati alle opportunità offerte dal nuovo assetto dell'industria finanziaria. Le nuove tecnologie accrescono la produttività e ampiano le possibilità di scelta degli utenti. Ma è necessario porre la dovuta attenzione alle possibili conseguenze negative. In un sistema ormai immerso nella tecnologia digitale, i danni causati dagli attacchi informatici possono trascendere la dimensione individuale e assumere rilevanza sistemica. Le banche centrali e gli organi di supervisione sono impegnati, a fianco di altre autorità e degli intermediari, nello sforzo di mantenere la sicurezza informatica del settore finanziario. Anche una diffusione non controllata di cosiddette criptoattività di natura digitale può comportare rischi per la protezione del consumatore e favorire attività illecite. In prospettiva può costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Anche in Italia il mercato finanziario è in evoluzione. Alla vigilia della crisi le imprese italiane si caratterizzavano per un alto livello del debito in rapporto al capitale e per un ricorso molto contenuto all'emissione di obbligazioni. Sono fattori che hanno contribuito a rendere più lunghe e profondi le fasi recessive. Oggi la leva finanziaria delle imprese, misurata dal rapporto tra i debiti finanziari e la loro somma con il patrimonio netto, è di 10 punti inferiore al picco del 50% registrato nel 2011. Il calo dipende sia dall'uscita dal mercato di imprese con livelli di indebitamento elevati, sia dall'afflusso di nuove risorse patrimoniali, anche per effetto di incentivi fiscali. Il divario rispetto alla media dell'area dell'euro si è notevolmente ridotto. Delle oltre 250 società non finanziarie oggi presenti in borsa, circa 80 sono state quotate tra il 2013 e il 2017. In diversi casi l'utilizzo di società a veicolo specializzate per raccogliere i capitali necessari ad acquisire imprese non quotate ha consentito alle aziende, anche di piccola e media dimensione, di accedere al mercato azionario in tempi più rapidi rispetto alle tradizionali operazioni di offerta pubblica iniziale. La capitalizzazione di borsa delle società non finanziarie resta tuttavia ampiamente inferiore a quella delle altre principali economie. In Italia essa è pari al 25% del PIL, in Germania poco più del 60%, in Francia e in Regno Unito supera il 70%, nei Stati Uniti il 120%. Nel nostro Paese è limitata anche la quota di capitale di rischio fornita da intermediari specializzati nel private equity. L'aumento del grado di patrimonializzazione delle imprese si accompagna a una ricomposizione dell'indebitamento. Tra il 2013 e il 2017 le emissioni lorde di obbligazioni sono salite in media d'anno a 35 miliardi, da 25 nel quenio precedente. L'introduzione di incentivi fiscali ha favorito l'emissione di titoli, i mini bond, da parte di circa 150 imprese che in passato non avevano fatto ricorso a collocamenti obbligazionari. Nel complesso, la quota dell'obbligazione sul totale dei debiti finanziari è salita negli ultimi dieci anni dal 6 al 13%, un valore leggermente più elevato di quello osservato in Germania, ma inferiore di circa nove punti rispetto a quelli di Francia e Regno Unito e di oltre 25 a quello degli Stati Uniti. Un più ampio accesso alla finanza di mercato è possibile soprattutto per le imprese più grandi. Per le piccole e medie, lo sviluppo dei piani individuali di risparmio, introdotti alla fine del 2016 con l'obiettivo di favorire attraverso agevolazioni fiscali l'investimento in strumenti emessi da aziende italiane, può fornire un contributo non trascurabile. Per le imprese di più piccola dimensione, il credito bancario è tuttavia destinato a rimanere il canale principale di finanziamento. Dato anche l'inasprimento delle misure prudenziali sui prestiti deteriorati, le loro esigenze finanziarie vanno sostenute dalle banche con procedure di valutazione del merito di credito fondate su criteri rigorosi e sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Per rendere più agevole l'accesso al credito delle piccole e medie aziende, bisognerà continuare a favorirne il rafforzamento patrimoniale. Le banche sono dotate di un grande patrimonio informativo sulle imprese. Possono utilizzarlo per innalzare barriere alla concorrenza di altri operatori in una sterile difesa delle proprie posizioni o valorizzarlo invece con lungimiranza per offrire nuovi servizi, volte anche a favorire il ricorso diretto al mercato da parte delle aziende. Ma occorre che si adottino strategie incisive per affrontare le sfide poste dallo sviluppo della tecnologia, dalle pressioni concorrenziali, dai nuovi approcci alla regolamentazione e alla supervisione bancaria. Oltre a contenere le spese amministrative e il costo del personale, vanno diversificate le fonti di reddito. È una strada che si sta già percorrendo, lungo la quale si deve proseguire senza esitazioni. Il completamento delle riforme di Basilea 3 migliora la qualità delle regole, evitando che alcune banche usino i propri modelli interni per ridurre eccessivamente i requisiti di capitale, soprattutto sull'attività di negoziazione. Nelle nuove regole è compreso un alleggerimento dei requisiti relativi alle operazioni di credito con le piccole e medie imprese, che si aggiunge a quanto già previsto nella normativa europea. Tra le sfide vi sono anche quelle della correttezza sostanziale dei comportamenti nei confronti della clientela e del rispetto della legalità. In più casi, un'insufficiente attenzione ai profili di trasparenza e una difformità tra i prodotti collocati e le esigenze finanziarie dei sottoscrittori, gravi di per sé, hanno amplificato gli effetti delle crisi. Preservare la fiducia dei clienti è un dovere degli intermediari. È anche uno strumento per accrescere la capacità competitiva. È essenziale per la sostenibilità delle strategie delle banche nel nuovo contesto operativo e di mercato. Il sistema ha mostrato un impegno crescente nell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Occorre proseguire in questa direzione per fronteggiare efficacemente i rischi posti dalla continua evoluzione della criminalità finanziaria che si avvale anche delle nuove tecnologie. Nel 2017 le banche italiane hanno rafforzato il patrimonio. L'aumento del capitale di rischio è stato pari a 23 miliardi, di cui 4 forniti dallo Stato per la ricapitalizzazione del Monte di Paschi di Siena. Il coefficiente di risolvibilità è cresciuto in media di oltre due punti percentuali, al 13,8%, era pari al 7,1 dieci anni fa. Per i gruppi significativi la distanza dalla media dell'area dell'euro è diminuita di due punti percentuali, a 1,3 punti. Negli ultimi anni si sono ridotti sia l'esposizione delle banche nei confronti del settore pubblico, sia l'ammontare dei crediti deteriorati. La prima è scesa di oltre un quarto, a circa 300 miliardi rispetto al picco di inizio 2015. Il secondo ha registrato un calo di quasi un terzo, al netto delle rettifiche di valore, a 135 miliardi rispetto alla fine del 2015. Il tasso di copertura, ovvero il rapporto tra la consistenza delle rettifiche di valore e l'ammontare l'ordo dei prestiti deteriorati, ha raggiunto il 53%, un livello sensibilmente superiore a quello medio delle principali banche europee. Secondo i dati pubblicati dalla BCE, alla fine del 2017 l'incidenza dei crediti deteriorati delle banche significative italiane sul totale dei prestiti era pari all'11,1% in termini lordi, a fronte di una media del 4,1 per gli altri gruppi significativi dell'area dell'euro. Al netto delle rettifiche di valore, le incidenze erano pari rispettivamente al 5,9 e al 2,4%. Il divario, sebbene ancora consistente, si è ridotto nettamente nell'ultimo biennio. Il calo della consistenza dei crediti deteriorati ha riflesso il forte aumento delle cessioni sul mercato secondario, agevolato dal favorevole contesto economico. Per 35 miliardi nel 2017, a fronte di una media annua di 5 nel precedente quadriennio. Le vendite previste per quest'anno raggiungerebbero 65 miliardi per l'intero sistema bancario. Secondo i piani presentati lo scorso marzo al meccanismo di vigilanza unica, entro il 2020 i crediti deteriorati dei gruppi significativi italiani arriverebbero quasi a dimezzarsi rispetto ai livelli di fine 2017. L'incidenza sul totale dei prestiti al netto delle rettifiche di valore scenderebbe intorno al 4% per i gruppi significativi. Si stima che calerebbe al 5% per l'intero sistema. Abbiamo sottolineato più volte i rischi dell'imposizione di tempi troppo compressi per la riduzione dei prestiti deteriorati, soprattutto nei Paesi come il nostro, dove le procedure di recupero sono più lente e la platea dei compratori è stata a lungo limitata. Ma la riduzione dei crediti deteriorati deve proseguire con decisione, traendo beneficio dal progressivo sviluppo del mercato secondario, anche grazie ai primi frutti della riforma delle procedure esecutive immobiliari. Una piccola parte delle cessioni realizzate lo scorso anno ha riguardato inadempienze probabili, ossia esposizioni per cui vi è la possibilità che il debitore torni a onorare i propri impegni. Ulteriori vendite sono programmate dai gruppi significativi. La dismissione di questo tipo di esposizioni beneficerebbe dell'intervento, in Italia ancora contenuto, di operatori specializzati in ristrutturazioni aziendali. I cosiddetti fondi di turnaround, in grado di offrire alle imprese sia nuovi finanziamenti, sia le risorse manageriali necessarie per il rilancio dell'attività. Lo scorso gennaio abbiamo emanato linee guida in materia di gestione di crediti deteriorati rivolte alle banche di minori dimensioni, sulle quali vigiliamo direttamente. Esse replicano, applicando principi di proporzionalità, la sostanza delle indicazioni rivolte alle banche significative dal meccanismo di vigilanza unica. Entro l'autunno anche le banche minori dovranno varare piani ambiziosi ma sostenibili per diminuire significativamente l'ammontare di tali esposizioni. La redditività delle banche italiane è migliorata nel 2017, al netto delle componenti straordinarie il rendimento del capitale ha di poco superiato il 4%, a fronte di un risultato negativo del 5,7% nel 2016. La tendenza è proseguita nel primo trimestre di quest'anno per i maggiori gruppi. Questi gruppi hanno registrato risultati reddituali nel complesso soddisfacenti grazie all'incremento delle commissioni e al contenimento dei costi. Diversi intermediari, tuttavia, hanno ancora una redditività insufficiente. La capacità di generare profitti delle banche di minori dimensioni risente della difficoltà di ampliare i ricavi e della più bassa efficienza operativa. Pesano inoltre perdite su crediti ancora elevate. Per le banche diverse da quelle di credito cooperativo, lo scorso anno il costo del rischio misurato dal rapporto tra il flusso di rettifiche e la consistenza media dei prestiti è stata di quasi 190 punti base contro i 500 delle banche maggiori e 130 per le altre banche minori. Per un quarto di questi intermediari minori il tasso di rendimento del capitale proprio è stato negativo. Al recupero di redditività possono contribuire l'esternalizzazione di alcune funzioni, consorsi per la condivisione dei processi produttivi e per l'acquisto di beni e servizi, accordi per la commercializzazione dei prodotti finanziari assicurativi, operazioni di concentrazione. Le piccole banche popolari potrebbero beneficiare, come in altri Paesi, della realizzazione di un meccanismo di protezione istituzionale basato su accordi di sostegno reciproco in caso di difficoltà, con vantaggi nel calcolo dei requisiti patrimoniali. Sarebbe un passo verso forme più strette di integrazione. Per un settore quale quello del credito cooperativo, procedere con generazioni di aggregazione è una necessità urgente. Nell'ultimo decennio la patrimonializzazione delle BCC ha risentito del basso flusso di autofinanziamento e dei vincoli normativi al ricorso al mercato dei capitali. Il coefficiente risolvibilità è cresciuto di soli due punti percentuali, mentre per trattare il sistema, come abbiamo visto, l'aumento è stato di circa 7. Ne è derivato altresì un limite alla capacità di far fronte al peggioramento della qualità dei prestiti. Oggi le BCC registrano un'incidenza delle esposizioni deteriorate più elevata e un tasso di copertura più basso rispetto alla media del sistema. La riforma in corso consentirà alle BCC di continuare a sostenere con efficacia le economie locali, anche nel nuovo contesto regolamentare, mantenendo allo stesso tempo lo spirito mutualistico che le contraddistingue. I sistemi di garanzia solidale previsti dai contratti di coesione e il ricorso alle risorse patrimoniali che, grazie alla riforma, le nuove capogruppo potranno raccogliere sul mercato, permetteranno di risolvere in modo più efficace eventuali situazioni di difficoltà. In assenza dei gruppi, infatti, la legge richiederebbe di gestire le crisi di singole BCC con soluzioni di tipo liquidatorio. Il miglioramento dell'efficienza e la rimozione agli ostacoli di riperimento di capitali di rischio sul mercato consentiranno a gruppi in via di costituzione di far fronte alle sfide poste al nuovo contesto. Per le banche italiane, le misure volte alla riduzione delle esposizioni deteriorate, al recupero della reddittività e, più in generale, all'afforzamento dei bilanci, sono particolarmente importanti, alla luce della trasformazione del settore finanziario sulla quale mi sono appena soffermato. Sono anche necessarie per adattarsi ai numerosi interventi regolamentari di vigilanza varati e in corso di definizione. Il pieno adeguimento ai requisiti sulle passività in grado di osservire le perdite in caso di crisi, il Marello, l'entrata al regime dei nuovi principi contabili, la revisione dei modelli interni utilizzati per determinare le esigenze patrimoniali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono alcuni esempi importanti. Quando guardiamo al futuro del mondo ascorgiamo sempre rischi e opportunità. Non si può procedere con sicurezza se saranno i primi o le seconde a prevalere. Possiamo costruire scenari ipotizzando particolari tendenze e determinate azioni politiche, tenendo conto del gioco del caso. Sono chiari i rischi posti dal cambiamento tecnologico, dalle tendenze demografiche e migratorie, dalle potenziali guerre commerciali. Opportunità derivano anche in larga misura dalla tecnologia e dal suo stimolare a combinarsi con lo spirito imprenditoriale. Per coglierle servono politiche pubbliche appropriate che sappiano anche proteggere dai rischi. In questo quadro l'Italia ha le sue carte da giocare. Veniamo da un quarto di secolo di retamento economico rispetto agli altri Paesi avanzati, culminato in una doppia recessione che ha fatto danni paragonabili a quelli di una guerra. Ma ne stiamo laboriosamente venendo fuori. Stiamo riuscendo a scalfire quel blocco strutturale che impedisce al dinamismo delle imprese di esprimersi e diffondersi. I primi risultati dello sforzo collettivo compiuto sono oggi visibili. La struttura produttiva sta lentamente cambiando, l'occupazione è in crescita, gli investimenti sono tornati ad aumentare segnalando una maggiore fiducia nel futuro. I conti con l'estero vanno bene e sono drasticamente calate le nostre passività nette. Le banche stanno superando le gravi difficoltà originate dall'economia reale. Una finanza pubblica più equilibrata ha consentito di indirizzare risorse a sostegno dell'economia, nei limiti ancora imposti dalla necessità di tenere sotto controllo il debito, da noi particolarmente elevato. L'orientamento eccezionalmente espansivo della politica monetaria, tesa a garantire la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, sostiene gli sforzi del settore privato e di quello pubblico. Le scelte di finanza pubblica riguardano le imposte necessarie a finanziare la spesa e le modalità seguite nel rivolgere le risorse disponibili alla crescita e alla tutela dei deboli. La crisi grave che ci ha colpito ha accentuato da un lato il peso dell'imposizione fiscale e dall'altro i timori di chi ha un lavoro e le ansie di chi lo cerca. L'obiettivo finale della politica economica non può essere che quello di accrescere il reddito e il benessere di tutti. Un'economia che si impoverisce è più disuguale e infelice. Per conseguirlo va innalzato il potenziale di crescita, quindi la produttività del sistema. Se il settore pubblico si limitasse a fare nuovi debiti, senza operare per orientare in favore dello sviluppo la composizione del suo bilancio e alle norme e modi di funzionamento dell'economia, le conseguenze sarebbero gravi. Ma va ancora sottolineato che per ridurre il debito non vi sono scorciatoie. Gran parte del risparmio finanziario accumulato dagli italiani trova corrispondenza, diretta o indiretta, nei 2.300 miliardi del nostro debito pubblico. Se venisse messo a repentaglio il valore della loro ricchezza, reagirebbero fuggendo, cercando altrove riparo, e gli investitori stranieri sarebbero più rapidi. La crisi finanziaria che ne conseguirebbe farebbe fare al nostro Paese molti passi indietro. Macchierebbe in modo indelebile la reputazione dell'Italia nel mondo. Non sono le regole europee il nostro vincolo, è la logica contabile, la logica economica. A essa è esattamente connesso l'obbligo che tutti abbiamo di non compromettere il futuro delle prossime generazioni. Accrescere il debito vuol dire accallare loro quello che oggi non si vuole pagare. Ridurre l'incidenza del debito pubblico e contemporaneamente sospingere l'attività economica è difficile, ma non impossibile. Il momento non è sfavorevole. È contenuta la distanza che ci separa dall'equilibrio di bilancio, che consentirebbe di innescare un circolo virtuoso tra minore costo del debito e crescita. È in miglioramento la competitività. Le condizioni finanziarie in Europa sono distese. Si possono gradualmente orientare le risorse verso gli usi più produttivi, aumentando gli investimenti pubblici e operando per la realizzazione di infrastrutture adeguate. I mezzi necessari vanno trovati con equilibrio e pazienza, tagliando le spese inutili e riconsiderando, semplificandola, la struttura complessiva dell'imposizione, senza pregiudizi nei confronti dell'aumento delle imposte meno distorsive. È uno sforzo da compiere in un contesto globale. Vi sono fenomeni da governare che hanno necessariamente una scala internazionale. L'integrazione economica, il progresso tecnologico, l'immigrazione, la finanza sono questioni che non possono essere gestite nei ristretti confini nazionali. Non ci può essere sviluppo nell'isolamento. Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Siamo parte di una grande area economica profondamente integrata, il cui sviluppo determina il nostro nello stesso tempo ne dipende. È importante che la voce dell'Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell'Unione Europea. Ma tutti i Paesi che ne fanno parte devono contribuire al suo progresso. Nei prossimi mesi saranno affrontate questioni di grande rilievo. La governance dell'Unione, il suo bilancio pluriannale, la revisione della regolamentazione finanziaria. L'Europa ha bisogno di rivedere gli strumenti esistenti e di crearne di nuovi, comuni, per affrontare i shock economici e finanziari in un contesto in cui quelli nazionali sono deboli o indisponibili. Dopo le riforme degli scorsi anni, ulteriori progressi sembrano al momento bloccati dalla preoccupazione per le vulnerabilità finanziarie, pubbliche e private accumulate durante la crisi e dalla sfiducia reciproca. È una situazione difficile che possiamo superare ponendo le condizioni per compiere in futuro quei passi che oggi possono apparire impossibili. Si ricorda spesso che l'Unione Europea e l'area dell'euro non hanno un governo comune. Ma proprio questo grande obiettivo ha animato la storia dell'Europa moderna. La sua lontananza non deve fiaccare la volontà di partecipare con vigore e da protagonisti al dialogo e agli approfondimenti dai quali dipende nei prossimi anni la prosperità dei cittadini europei. È a tutti evidente la delicatezza e la straordinarietà del momento che stiamo vivendo. Se è auspicabile che siano definiti con chiarezza e lungimiranza gli obiettivi e i progetti delle diverse forze politiche, non sarebbe saggio ignorare le compatibilità finanziarie. E non per rigidità a livello europeo o minacce speculative, ma perché le nostre azioni, i nostri programmi forniscono i segnali che orientano la locazione delle risorse a livello nazionale e globale. Le norme entro cui operiamo possono essere discusse, criticate, vanno migliorate, ma non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali, la tutela del risparmio, l'equilibrio dei conti, il rispetto dei trattati. Soprattutto bisogna avere sempre presente il rischio gravissimo di disperdere in poco tempo e con poche mosse il bene insistituibile della fiducia. La fiducia nella forza del nostro Paese, che al di là di meschine e squilibrate valutazioni, ma tenendo conto della necessità di colmare i nostri ritardi, è grande sul piano economico e su quello civile. La fiducia nella solidità del nostro risparmio, fondata sulla capacità di superare gli squilibri finanziari, economici e sociali. La fiducia nel nostro futuro, da non disperdere in azioni che non incidono sul potenziale di crescere l'economia, ma rischiano di ridurlo. Ed è grave, e non vi sono giustificazioni se non emotive, per ciò che osserviamo oggi sui mercati. Perseverando tutti nello sforzo indispensabile di ammodernamento, potremo contribuire all'affermazione dei valori fondamentali del progetto europeo, tornare a uno sviluppo sostenuto, garantire il benessere e la pace delle generazioni future. Mai come oggi sono attuali le parole degli illustri governatori che mi hanno preceduto. Sta in noi. Grazie. Grazie a tutti e a tutti buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.